venerdì 11 marzo presso il punto vaccinale città di agropoli sede della croce rossa sarà somministrato il nuovo vaccino di novavax esclusivamente per chi non è ancora vaccinato a spiegare nel dettaglio l'iniziativa e raffaele meola responsabile amministrativo del centro vaccinale distretto 70 venerdì ci sarà un open day presso la sede della croce rossa di agropoli dalle 15 alle 19 e avremo finalmente anche noi il vaccino un vaxovid prodotto dall'azienda novavax un vaccino vecchio stampo si può dire che utilizza la tecnica delle proteine ricombinanti già in uso sin dagli anni 80 ad esempio contro malattie quali la pertosse e l'epatite b quindi si spera sia un'arma per convincere gli ultimi indecisi ancora diffidenti verso la tecnologia rna come pfizer e moderna come per pfizer anche il vaccino prodotto da novavax si somministra con due dosi a distanza di 21 giorni l'una dall'altra è autorizzato dei 18 anni in su e saranno fatte con questo vaccino esclusivamente prime dosi allo stesso tempo porteremo anche pfizer e moderna per continuare con le terze dosi e le seconde dosi perché ha ricevuto la prima 21 28 giorni fa in pratica sarà un open day con tutti e tre i vaccini disponibili a scelta dell'utente in modo da convincere e chiamare a vaccinarsi quando è più persone possibili cercando appunto di ampliare ulteriormente la platea dei vaccinati vi aspettiamo quindi al punto faccio una cittadropoli venerdì 11 marzo dalle ore 15